Il termine comunità è fondamentale per capire quello che è una cooperativa di comunità. La nostra si chiama comunità attiva, è appena costituita, è giovanissima. Che cos'è una cooperativa di comunità? È un modo, come dicevo prima, abbastanza semplice, no? Ritornare un pochino a quello che si faceva una volta, cioè darsi una mano a vicenda. Quindi racchiude un po' tutto quello che può essere una cooperativa come loro, come quella agricola. Giustamente diceva che c'è la possibilità di fare anche quella cosa lì. Perché la comunità è il modo di auto-organizzarsi dei cittadini per risolvere quelli che sono i problemi di una comunità, di un territorio, di un gruppo di persone che hanno bisogno di servizi, che magari a livello pubblico non sono sufficienti o non vengono forniti in modo, diciamo sempre, preciso. Oppure per avere altri prodotti o altri, diciamo, per fare altri progetti a medio e lungo termine. Vogliono essere partecipi all'interno di una cooperativa di comunità, attraverso, all'interno di una comunità. Come lo fanno? Attraverso questo strumento che è la cooperativa. Si autodeterminano quello che è, diciamo, il loro progetto, il loro futuro, o il territorio che lasceranno, diciamo, ai propri figli. Quindi particolare e particolare importante della cooperativa di comunità è il fatto di essere fortemente orientata all'ecosostenibilità. Quindi a progetti ecologici che riguardano, diciamo, possono riguardare la riqualificazione energetica, per esempio, quindi trovare altre forme alternative di energia pulita per rendere, diciamo, pulito l'ambiente in cui, diciamo, opera la comunità. Non solamente quello, ovviamente anche servizi più elementari. Si va dai servizi, appunto, di, che ne so, di piccola manutenzione all'interno delle abitazioni dei soci che vengono fatte a dei costi, ovviamente, più bassi rispetto alla generalità dei casi, diciamo, rispetto al mercato. Quindi questa, sostanzialmente, se vogliamo che i cittadini siano partecipi, bisogna dare loro, appunto, questo strumento che è la cooperativa di comunità. Ora, ovviamente è un po' difficile dire che cosa fa la cooperativa di comunità. Può fare quello che i cittadini vogliono fare, che sia utile per loro e per gli altri che fanno parte di quella comunità. Noi abbiamo dei progetti, dei servizi, diciamo, che riteniamo di base e che però possono variare, ovviamente, da cooperativa a cooperativa, perché da comunità a comunità, perché ogni comunità ha un proprio bisogno o ha dei propri bisogni. Poi ci sono dei progetti più importanti, appunto, media e lunga durata, che riguardano proprio l'ecologico, che sono, appunto, dicevo prima la riqualificazione energetica, ma anche la possibilità, per esempio, di bonificare un tratto di, che ne so, fluviale fuori delle città per poter poi quelle biomasse raccoglierle e fare altri progetti. Quindi un po' improntato anche, diciamo, a quelle che sono le associazioni, adesso non so se sono proprio cooperative, anche inglesi, che sono improntate all'energetico e quindi sviluppare dei progetti anche nei quali i cittadini possono investire, ad esempio, ovviamente possono essere soci sovventori della cooperativa e avere un ritorno economico in più rispetto a quello che potrebbero avere investendo in altre cose, insomma, quindi è un modo, diciamo, non è innovativo, perché è antico come modello, diciamo, è un modo per imboccarsi le maniche, fare le cose di cui hanno bisogno appunto i cittadini di quella comunità. Grazie.